Buongiorno signori e signori, io sono il gatto sgobaria, sono molto caruccio. Io sono un sacco attalissante e sono molto intelligente. Io passeggio in un bosco, prendo la ra e prendo la ra. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssi. Chi è? Sono io. Io chi? Il gatto sgobaria. Ah ah ah, era tu! Mi hai fatto tanta paura! Ero solo io. E comunque perché gatti così? Sì, perché sono andato così. E comunque ti mangerò. Troppo tardi, sei davvero buono. Sì, sono molto buono. Grazie. Grazie signori, signori. Siete tanto gentile. Grazie.